Stai avendo problemi riguardo all'avvio del gioco off the grid anche se richiede veramente molti requisiti come una 30 e 60 come minimo è consigliato una 40 e 70 un po' esagerato per un semplice gioco battle royale anche perchè la grafica è anche pesante quindi non riesci neanche ad avviare il gioco perchè può essere che non soddisfi così quindi non supporti il gioco sul tuo computer oppure hai dei driver obsoleti sul tuo computer sulla tua scheda video quindi andiamo direttamente nella libreria e facciamo il modo di avviare il gioco in modalità di rendering direct x11 al posto del 12 quindi anche se hai una buona scheda video costosa e potente e provi ad avviarlo in modalità direct x12 migliora la qualità ma può avere problemi di crash e non si avvia neanche quindi abilitiamo così questa opzione di lancio scrivi qua sopra trattino di 3d 11 e andiamo ad abilitarlo quindi andiamo ad abilitarlo in direct x11 quindi riduciamo anche la grafica del gioco una volta fatto vai direttamente nella sua cartella andiamo sul gioco quindi qui nel 64 se riesco a trovare ed eccolo qua g01 client 64 shipping andiamo così a cancellare questa applicazione chiudiamo qua tu tieni così trattino di 3d 11 tre puntini gestisci verifichiamo i file poi una volta fatto se continua a non avviarsi puoi semplicemente cancellare la cartella del gioco in app data quindi scrivi qua sopra esegui per cento app data per cento e fai ok app data local se c'è la cartella of the rig noi andiamo a cancellarla cancelli così la cartella e provate avviare di nuovo il gioco poi una volta fatto tre puntini gestisci nella sua cartella g01 finalis 64 questo qua shipping mostre attropazioni proprietà compatibilità esegui questo programma come amministratore e disabilita ottimizzazioni schermo intero se non si avvia lo stesso rimuovi queste spunte io faccio applica e faccio ok se in questo caso ti chiede anche di firmare quindi una cosa tipo firme digitali ci clicchi sopra visualizza certificato installiamo il certificato utente corrente e facciamo fine installiamo e importiamo così un certificato di gioco sul nostro sistema e facciamo ok basta tutto nella sua cartella e poi andiamo ad avviarlo in esecuzione Udebic Games inizializzazione in corso e il gioco si sta avviando alcuni dicono che arrivano a questa parte qua inizializzazione e poi non succede niente si chiude ma il gioco rimane ancora attivo in gestione attività gestione attività tasto destro su start gestione attività e lo trovi direttamente qua sopra il gioco e tu devi terminarlo lo termini e riprovi ad avviarlo di nuovo e poi una volta fatto vado direttamente nelle impostazioni quindi vado su impostazioni vado a mettere in video DLSS e metto performance scala di risoluzione la tengo su 60% poi da presets medium distanza metto medio ombre non mi interessa texture metto medio effetti qualità metto passo inizione globale metto tutto low poi da riflessi low shading v sing tengo off e basta applico così i cambiamenti anche per non avere problemi di crash ed eccolo qua per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao